E' andato al banco di Gianelia Moretti, che commercializza cappelli e accessori di abbigliamento, il premio Italia della quindicesima edizione del Mercato Europeo di Piacenza. E' un grande onore per noi, per me e la mia famiglia, ricevere questo premio. Abbiamo una tradizione di 30 e più anni. Ci concentriamo su tutto quello che va messo in testa dal bambino ad arrivare alla persona più anziana, uomo e donna. Premia quello che è il nostro sforzo quotidiano sulla scelta dei nostri prodotti da offrire a una clientela che è sempre più esigente e più vasta, che però ci dà sempre tante soddisfazioni, in particolar modo in queste giornate, in questi tre giorni del Mercato Europeo, dove abbiamo sempre un grande pubblico. Premio Originalità al bus di The Street, mentre il premio Europa è andato a una New Entry, un banco di alimentazione indiana. La manifestazione che si svolge sul pubblico passeggio andrà avanti fino a domani sera.